Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Senza Logica Massicogita. Nella puntata di oggi risponderò ad alcune delle innumerevoli domande che mi avete posto nelle scorse settimane. Cercherò di rispondere a tutti voi, solo che ci vorrà del tempo, quindi dovete avere un po' di pazienza, ma non perdiamo tempo e passiamo subito alle domande di oggi che mi sono appuntato. La prima è, è lecito ragionare con il linguaggio naturale? La risposta è sì, è assolutamente lecito e questo ci porta alla seconda domanda. Qual è la differenza tra ragionare con il linguaggio naturale e ragionare con il linguaggio logico-matematico? Il linguaggio naturale, nel nostro caso l'italiano, serve a comunicare pensieri, idee, emozioni, sensazioni, eccetera, agli altri esseri umani ed è ricchissimo di sfumature, di sensi e di significati, nonché è molto versatile. Queste caratteristiche possono costituire un enorme vantaggio oppure un grande svantaggio a seconda dei casi. Per esempio, grazie alle caratteristiche su menzionate, il linguaggio naturale si presta in maniera eccellente a raccontare e scrivere poesie, fiabe, favole, romanzi, saggi e così via, e può essere utilizzato anche per effettuare i ragionamenti. Basta pensare proprio ai ragionamenti sviluppati da filosofi e scienziati utilizzando proprio il linguaggio naturale. Io stesso, in questo video, sto utilizzando il linguaggio naturale per effettuare una serie di ragionamenti. Il problema è che quando si utilizza il linguaggio naturale per effettuare dei ragionamenti, la sua ricchezza di sfumature, di sensi e significati e la sua incredibile versatilità, se non si presta la dovuta attenzione, potrebbero trasformarsi in mancanza di rigore, precisione e accuratezza e rivelare molta ambiguità. Infatti, quando ci si confronta nel linguaggio naturale è molto facile fraintendersi, da un lato attribuendo sensi e significati diversi allo stesso termine e dall'altro lato utilizzando termini diversi per indicare lo stesso senso e o significato. A tal proposito vi fornisco alcuni esempi elementari che servono a rendere l'idea. Considerate le cinque proposizioni che vedete scritte alle mie spalle. Michele Totta è un uomo, l'uomo è un animale, l'uomo è un animale razionale, Dio è onnisciente, Dio è. Come potete vedere tutte e cinque le proposizioni contengono un termine in comune che è la E, lo indicata con vari colori. Inoltre, ad eccezione forse dell'ultimo caso, tutte le altre proposizioni sono sostanzialmente strutturate dalla stessa maniera. Grosso modo quindi sembra che la E venga utilizzata nella stessa accezione in tutti e cinque i casi. Sembra, ma in realtà non è così. Per accorgerci di questo fatto proviamo a tradurre queste proposizioni nel linguaggio formale. Nel primo caso abbiamo Michele Totta è un uomo. La E va intesa nella sua accezione di appartenenza, cioè stiamo dicendo che vi è un oggetto o un individuo, Michele Totta, che appartiene all'insieme degli uomini. Quindi, indicando con M minuscolo Michele Totta e con U maiuscolo gli insieme degli uomini, scriveremo M appartiene a U. Il secondo caso sembrerebbe praticamente identico al primo. Infatti, al posto di Michele Totta abbiamo l'uomo, E è sempre quella, al posto di un uomo abbiamo un animale. Apparentemente è la stessa cosa, e invece no, perché in questo caso la E viene utilizzata nella sua accezione di inclusione, cioè stiamo dicendo che l'insieme degli uomini è contenuto nell'insieme degli animali. Quindi, indicando con U maiuscola l'insieme degli uomini e con A maiuscolo l'insieme degli animali, scriveremo che U è un sottoinsieme di A. Il terzo caso sembrerebbe sostanzialmente identico al secondo. Infatti abbiamo l'uomo è un animale, qui c'è solo in più razionale, quindi è la stessa cosa di prima, e invece no, perché in questo caso la E viene utilizzata nella sua accezione di identità, cioè stiamo dicendo che l'insieme degli uomini corrisponde esattamente a quello degli animali razionali, e che l'insieme degli animali razionali corrisponde esattamente a quello dell'uomo. Quindi scriveremo che U è uguale a R. Nel quarto caso, Dio è onnisciente, la E va intesa nella sua accezione di predicazione, cioè stiamo dicendo che Dio ha, attenzione, ha una certa proprietà, che è quella di essere onnisciente, e quindi scriveremo, indicando con la O l'onniscienza, O di D. Infine, nell'ultimo caso, Dio è, la E va intesa nella sua accezione esistenziale, cioè stiamo dicendo che Dio esiste, che c'è un Dio, quindi scriveremo esiste un X tale che X è Dio. Come potete vedere, nel linguaggio naturale abbiamo utilizzato lo stesso simbolo, la E, per indicare cinque accezioni differenti. Invece, nel linguaggio formale, abbiamo un simbolo per ciascuna accezione. Il guaio è che se in un ragionamento confondiamo le varie accezioni, possiamo giungere a delle conclusioni molto dubbie. Per capire meglio cosa intendo dire, vi sottopongo un esempio banale, estremo e un po' scherzoso. Considerate le seguenti proposizioni. Dio è amore. L'amore è cieco. Il fratello di mio padre è cieco. Ragionamento. Dio è amore. Ma l'amore è cieco. Quindi Dio è cieco. Poiché il fratello di mio padre è cieco e Dio è cieco, allora mio zio è Dio. Come vi ho detto, questo esempio è banale, volutamente estremo e scherzoso, ed è facile individuare l'errore. E dov'è? Semplicemente l'errore risiede nell'utilizzare la E in accezioni differenti all'interno dello stesso ragionamento intercambiandole tra di loro come se avessero la stessa accezione. Ovviamente ragionamenti di questo tipo non ingannano quasi nessuno. Il problema però è che quando si svolgono ragionamenti molto complessi che riguardano questioni molto profonde, problematiche ed errori di questo tipo non coinvolgono solamente la E, ma possono coinvolgere anche molti altri termini presenti all'interno del ragionamento. E questi errori potrebbero sfuggire oppure essere introdotti in mala fede dal nostro interlocutore per trarci in inganno. In un ragionamento formale è difficilissimo commettere errori di questo tipo e anche se vengono commessi è facilissimo individuarli perché in un ragionamento formale una volta definiti i simboli per indicare le proposizioni, i concetti, le relazioni, le regole e così via, se durante il ragionamento si passa da una formula ad un'altra ce ne accorgiamo. Per esempio, se stiamo analizzando la formula D uguale C e ad un certo punto nel ragionamento passiamo alla formula C di D ci accorgiamo immediatamente che c'è qualcosa che non va perché nel primo caso stiamo dicendo che l'oggetto o l'individuo D è uguale all'oggetto o individuo C. Invece nel secondo caso stiamo dicendo che D possiede la proprietà C che è una cosa completamente diversa. Quindi ci accorgiamo immediatamente dell'errore. Invece nel linguaggio naturale potremmo utilizzare un termine, per esempio la E, prima in un'accezione e poi in un'altra, senza rendercene conto, oppure il nostro interlocutore potrebbe attribuire significati diversi ai termini che noi stiamo utilizzando. Cosa che nel linguaggio formale non accade. Inoltre, nel linguaggio naturale è molto più difficile individuare le regole di ragionamento applicate. Potremmo utilizzare delle regole scorrette, senza saperlo, oppure senza accorgersene. I ragionamenti potrebbero essere confusi, poco chiari, contorti. Potremmo utilizzare delle premesse che non sono state adeguatamente esplicitate, oppure che non sono state esplicitate affatto. In generale, come vi ho detto, con il linguaggio naturale è molto più facile fraintendersi. Confrontate i ragionamenti formali effettuati con il linguaggio logico-matematico della precedente puntata con i ragionamenti informali effettuati con il linguaggio naturale di questa puntata. Vi accorgerete della differenza. Da tutto ciò ne concludiamo che non è lecito ragionare utilizzando il linguaggio naturale? Ovviamente no! Infatti, è possibile svolgere delle dimostrazioni esibendo un ragionamento basato sul linguaggio naturale. Solo che bisogna prestare molta attenzione a come ci esprimiamo. Dobbiamo cercare di esplicitare il più possibile tutte le premesse o almeno quelle più importanti del nostro ragionamento e dobbiamo sforzarci di essere più lineari, chiari e precisi possibili nella nostra esposizione. Possiamo affermare che il linguaggio matematico è migliore del linguaggio naturale? Non dovete vederla in termini di migliore-peggiore. Il linguaggio logico-matematico ci consente di fare specifiche cose in maniera superba. Il linguaggio naturale ci consente di fare altre cose altrettanto bene. Quindi dipende dal contesto e da quello che intendiamo fare. Bene, passiamo alla terza domanda. Le opinioni che nascono dai ragionamenti degli individui, da quelle del Bar dello Sport fino a quelle dei corridoi di Montecitorio, possono essere considerati solo per coerenza? Dato che un ragionamento può essere coerente e falso, allora è meglio non credere a nessuno? In ossequio a quanto ho detto in precedenza, per prima cosa dobbiamo chiarirci sul significato dei termini che stiamo utilizzando. La verità è una caratteristica di una proposizione riferita ad un determinato ambito di oggetti, indipendentemente dalle altre proposizioni. Vi ricordo che il termine oggetto deve essere inteso nella sua accezione più ampia possibile, quindi con oggetto non intendiamo solo il computer, il mouse, un tavolo, ma anche i concetti o i pensieri sono in questo senso degli oggetti. Una dimostrazione invece è uno strumento che ci consente di determinare la verità in una maniera molto specifica. Una dimostrazione non può essere vera o falsa, una dimostrazione può essere solo corretta o scorretta. Questo perché mentre verità e falsità costituiscono le proprietà di una proposizione, correttezza e scorrettezza si riferiscono ad un procedimento, le due cose non sono necessariamente correlate. Infatti, nel caso in cui una delle premesse dalle quali siamo partiti è falsa, anche una dimostrazione corretta può condurci a una conclusione falsa, così come una dimostrazione scorretta casualmente può condurci a una conclusione che è vera. Una dimostrazione corretta ci garantisce che la conclusione è necessariamente vera solo a condizione che le premesse siano tutte vere. Stessa cosa dicasi per un'inferenza che è una qualsiasi sequenza finita di proposizioni di cui l'ultima viene detta conclusione e tutte le altre prendono il nome di premesse. Un'inferenza si dice corretta se e solo se la conclusione è conseguenza logica delle premesse altrimenti viene detta scorretta. Affermare che un'inferenza è corretta non significa dire che la conclusione è vera ma solamente che è stata ottenuta in maniera deduttivamente corretta. Ricorderete che di questi argomenti ne ho già parlato in precedenti video. Un argomento invece è un qualsiasi gruppo di proposizioni in cui una delle quali viene considerata conseguenza logica di altre che come al solito sono le premesse. Tutto ciò significa che dobbiamo considerare tre coppie correttezza scorrettezza validità invalidità verità falsità. La coppia correttezza scorrettezza si riferisce esclusivamente alle regole di inferenza utilizzate nel ragionamento. La coppia validità invalidità non può essere applicata alle singole proposizioni perché si riferisce alle relazioni tra le proposizioni. Ciò significa che solo un argomento può essere valido o invalido. Ovviamente gli argomenti validi contengono tutte premesse vere. Infine la coppia verità falsità si riferisce solo allo status delle premesse e della conclusione in quanto tale e non si riferisce agli argomenti. infatti un argomento è costituito da un insieme di proposizioni che possono essere vere o false. In conclusione mentre verità e falsità vengono applicate alle affermazioni sul mondo validità e invalidità si applicano invece sugli argomenti. Venendo alla domanda essa fa riferimento ad un ragionamento coerente ma falso. questo tecnicamente non può essere perché in base alle definizioni che abbiamo appena fornito un ragionamento può essere coerente ma invalido cioè contenere proposizioni false oppure può essere coerente ma scorretto cioè essere basato su delle regole di inferenza che non sono corrette. purtroppo molte delle opinioni che ascoltiamo dal bar dello sport fino ai corridoi di Montecitorio sono ottenute utilizzando dei ragionamenti invalidi e scorretti secondo le accezioni che ho poc'anzi menzionato e contengono le cosiddette fallace logiche a proposito di questo argomento ne tratterò diffusamente nei prossimi video dedicando un'intera sezione adesso fatemi sapere se può interessarvi. In definitiva non dobbiamo più credere a nessuno ovviamente no credere in qualcosa non è sbagliato in sé la cosa importante però è che dobbiamo imparare a ragionare nella maniera migliore possibile a tal proposito mi permetto di leggervi un estratto del mio saggio che a mio avviso esprime al meglio quello che intendo dire ragionamento e deduzione costituiscono un aspetto fondamentale spesso trascurato perché dato per scontato non solo per le discipline scientifiche e filosofiche ma anche nella vita quotidiana rivelandosi essenziale per la crescita e lo sviluppo sia del singolo individuo sia di una società che intende liberarsi per quanto possibile da dogmi pregiudizi luoghi comuni eccetera infatti lo studio del ragionamento deduttivo nonché degli altri tipi di ragionamento ci può permettere di migliorare la capacità di pensare criticamente sviluppare abilità argomentative utili a giudicare le ragioni che ci inducono a ritenere se determinate affermazioni siano valide nonché i motivi per i quali debbano essere accettate porci le giuste domande riconoscere gli errori di ragionamento che troppo spesso contaminano il dibattito pubblico politiche e società e correggerli evitare di assumere ipotesi false o contraddittorie non confondere condizioni necessarie con sufficienti conferire valore alle premesse rilevanti e trascurare quelle irrilevanti trovare la soluzione ai problemi individuare le migliori strategie conoscitive interpretare correttamente dati e grafici statistici smascherare argomentazioni apparentemente sensate e ragionevoli evitando di essere irretiti da tranelli illogici e psicologici che potrebbero indurci ad accettare conclusioni non valide e addirittura consentendoci di sfuggire agli inganni che a volte riserviamo anche per noi stessi tutto ciò ci permette di comprendere che se gli esseri umani utilizzassero la razionalità si lascerebbero convincere solo da argomenti validi ed invece nella stragrande maggioranza dei casi accade l'esatto contrario da un lato si fanno convincere da argomenti invalidi fallaci e o costituiti da premesse palesemente false e ciò che è forse peggio dall'altro lato non si lasciano convincere da argomenti perfettamente validi in definitiva quanto detto costituisce un tassello fondamentale per la presa di coscienza della nostra fallibilità deduttiva intesa non tanto come l'impossibilità di stabilire delle certezze o delle conoscenze definitive quanto l'esistenza di modificazioni e ampliamenti delle nostre conoscenze che contraddistinguono qualsiasi attività intelligente naturalmente questo è quello che io auspico per la società e per me stesso perché ovviamente nemmeno io sono infallibile e posso commettere degli errori nei miei ragionamenti bene questa puntata termina qui noi ci vediamo la prossima volta e ricordate senza logica malsicogita grazie a tutti grazie a tutti